ed ora lasciamoci trascinare dalla passione di un tango il libertango di Astor Piazzolla Piazzolla è stato un grandissimo compositore argentino del secolo scorso l'inventore del tango nuovo con Piazzolla il tango non è più musica da ballo ma inizia a diventare anche musica più elevata musica per sale da concerto Piazzolla è stato un grandissimo suonatore di bandoneon uno strumento tipico argentino e ha scritto tutti i suoi tanghi per ensemble nulla per pianoforte a me piace molto ballare il tango e mi piace anche ballarlo alla tastiera per cui ho fatto molte trascrizioni dei suoi tanghi e ora vi voglio proporre questa il libertango musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.